E' stato con ogni probabilità l'innalzamento delle temperature a provocare la valanga che venerdì ha fatto due morti sul Grignetta, una delle più celebri vette lecchesi delle prealpi lombarde. Questa l'interpretazione del soccorso alpino locale, alla luce del rischio di slavine praticamente nullo, constatato il giorno della tragedia. E' esclusa in ogni caso la pista dell'imprudenza. All'attivo anni di montagna e missioni, Ezio Artusi e Giovanni Giarletta, le due vittime, erano volontari del soccorso alpino con all'attivo numerosissimi interventi.